Parlo solo della coppa e della maglia di Franco Marese. Il rapporto con la lirica credo sia buono per Matteo Salvini, come per tutti, perché la musica è cultura, la lirica è cultura, quindi credo che bisogna continuare a diffondere la cultura. E poi Matteo è appassionato delle grandi opere, no? Assolutamente sì. Tipo la TAV? Assolutamente sì. Ce ne canta un pezzetto? Di che cosa? Della grande opera, vai. No, se mi fate il corretto, se mi aiutate a fare il corretto. E che opera cantiamo? Eh, cantiamo qualcosa. Se avete voi non lo so io. Allora un bilancio di questi 46 anni? Sono un uomo felice e fortunato. Se non mi arriva un microfono in un'occhio. No, non invito io, io sono ospite, non ho fatto io gli inviti. Stop, 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 stop qui signori, scortesemente lasciate passare, scortesemente grazie, prego. Guarda che c'è, guarda che c'è Daniela, se no manca l'increzzo. Una lunga storia d'amore. Vieni Daniela. Daniela venga, venga, venga. Facciamo spazio, facciamo spazio, facciamo spazio. Direttore venga, con la spilletta, ma sei un tesoro, ma che roba. Guarda, si tiene l'amice di questo posto, ma lo sa. Una volta aveva cercato anche di un barbara. Guarda, abbiamo un blu simile, hai visto? Ma come sei bello, hai messo la cravatta. Per te, per te. Ah, allora ho fatto bene, questa volta ci sarà un'altra sorpresa. Basta cravatta. Basta cravatta, non la metto troppo spesso, la metto un'altra volta agli sei mesi a cravatta. Dai, facciamoci una bella foto. Il direttore principe. Buongiorno. Benvenuto. Però come facciamo? Facciamo un passo indietro, facciamo un passo indietro. Io faccio quello che mi dite di fare. Facciamo un passo indietro, facciamo la foto. Se facciamo, grazie. Contesemente, prego. Io non conosco bene le vicine amorose di Matteo, ma credo che abbia tanto da fare in politica che hanno molto tempo di occuparsi di... Cioè, non è in condizione di innamorarsi, ma che ha tutto l'amore che vuole alla sua donna. Però... No, e questo sarà bello, ho fatto proprio il video. Non c'è, 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 non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Devo fare una fotografia. Puoi aspettare un attimo? Casa della mamma. Mi dispiace? Vado dentro, caro. Scusi, caro, ma io non voglio... E, vai, vai, che se no c'è la mia... Ho detto che non dovete andare giusto ai pianti. Mi resta di messare di prendere qualcosa. Ci faccio una cortesia, ci dica solo questo, parto o non parto di parte? Ministro, partono o no i bandi? Parto io.